Ciao a tutti, questo video farà pochissime visualizzazioni perché è un argomento che interessa poco. La plastica. La plastica secondo me è stato inventato da una persona di alta coscienza perché è un materiale che può essere usato in tanti modi e non si consuma. Ma la plastica nel mio mondo, perché io arrivo da altri pianeti, nel mio mondo viene usata, prima di tutto la plastica nel mio mondo viene recuperata. Tutto quello che state vedendo è tutta roba da discarica che qualcuno di voi ha buttato, vedete? Tutta roba da discarica. Voi la buttate e un povero scemo come me, scemo per voi umani, ma per gli extraterrestri no, la prende, la recupera, ok? E costruisce, e costruisce, vedete, dei filtri di depurazione dell'acqua, ok? La stessa plastica che in un certo modo, che in un certo senso va a finire ad inquinare il pianeta, ok? Persone di alta coscienza, ma ce ne sono pochissime, infatti pochi mi seguono, tanti mi ammirano. La plastica viene usata per depurare l'acqua, ok? Questo è un impianto in miniatura, ma io con i miei progetti, le mie invenzioni riesco a depurare fontane, laghetti, stagni, di tutto, perché i principi sono principi di depurazione, ok? Attuabili secondo le grandezze, ma i criteri sono quelli, ok? Dopo fare un altro video quando sarà in funzione questo filtro. Ciao a tutti, condividete con gli appassionati del fai da te, con gli appassionati dell'ambiente, con gli appassionati una persona in diretta, porca miseria, ma penso che sia solo io quella persona in diretta. Ciao a tutti!